Questi appartamenti costano 5 milioni e mezzo di dollari. Abbiamo la miglior vista, la miglior sicurezza. Ma sai cosa si compra in realtà venendo qui? Vicini bianchi? Noi, lo staff, pagano la nostra devizione 7 giorni su 7. Buongiorno, signor Show. Tutto pronto per la festa di stasera? Come farai senza di te? Solo un'ora fa, il più ricco inquilino della torre è stato rilasciato e messo agli arresti domiciliari nel suo attico a Central Park West. Qualche anno fa fu chiesto al signor Show di gestire tutte le vostre pensioni. Ora dicono che chiunque abbia investito con lui è stato defraudato. Si è preso anche i tuoi soldi? Sì, esatto. Se mi cerchi vivrò in questa scatola. I tipi come lui tengono sempre i soldi vicini, ma non abbiamo ancora trovato quelli che è nascosto. 20 milioni in contanti. Vuoi rubare 20 milioni ad Arthur Show in un palazzo con il miglior sistema di sicurezza del mondo e sorvegliato dall'FBI 24 ore al giorno? Non siamo criminali, non sappiamo rubare. Noi no, ma conosco chi sa farlo. Hanno pagato la cauzione. Slide! Vuoi un passaggio? Perché mi hai fatto uscire? Non so nemmeno come ti chiamo. Da piccoli ci scaricavano nello stesso asilo. Sì, che mi ricordo di te. Eri quello con tutti quegli attacchi epilettici. Che cosa? Nessuno faceva riposino con te o colorava con te, niente. Senti, ho un lavoro per le mani e pensavo che magari potevi aiutarmi. Che vorresti rubare? 20 milioni di dollari. Andiamo a mangiare. Una rapina è sempre un'incognita. Dovrete riuscire ad adattarvi a qualunque situazione. Berretti da montagna. Io ho detto passamontagna. Il commesso dice che questi sono più caldi. Ma sei idiota? Ci serve una maschera per coprirci la faccia. Tutto può succedere. Stavo facendo un lavoretto e a un mio amico hanno sparato in faccia. Se ti sparano lì sei morto. Se ti sparano in testa sei morto. Ma se ti sparano in faccia il proiettile ti entra in una guancia e poi esce dall'altra. E allora che fai? Muoio. Io muoio. Siete solo degli impiegati. Timbate il tartellino. Non valete niente. Non importa come, troverò il modo di mettere le cose a posto. I suoi camerieri sono scatenati. Questa è una pessima idea. Non devi parlarmi più per il resto della rapina. La prima cosa da fare è trovare un punto di ingresso. E poi quando l'hai trovato devi usare le dita. Sei sposato? No, non sono sposato. Perché?